Il primo intervento di oggi invece sul turismo enogastronomico lo affrontiamo con Roberto Capecchi per capire un pochino più da vicino quali sono le differenze con il turismo ecosolidale. Allora secondo il mio modestissimo punto di vista invece secondo me dal punto di vista del turismo enogastronomico molte cose già sono state fatte. Allora Roberto con te mettiamo un attimo in risalto le luci quindi tutto quello che è già stato fatto e invece le ombre quello che c'è ancora da fare. Sì buonasera innanzitutto vogliamo dire che il turismo enogastronomico è per l'Italia un punto di forza in Italia la spesa media che il turista sia italiano che straniero effettua nel nostro bel paese è di circa 24 miliardi di euro. Tutto questo è indirizzato al buon bere e al buon mangiare. Sono numeri importanti equivalgono a una se non due finanziari quindi sono numeri che per quanto riguarda il nostro PIL aiutano e aiutano in maniera sensibile. L'Italia è stata una dei primi anche perché insomma per cultura per storia abbiamo oltre alle bellezze così che la storia ci ha dato abbiamo il buon bere e il buon mangiare ed è stata tra le prime nazioni a produrre questo nuovo modo di fare turismo. Per prima è partita la Toscana, abbiamo il Piemonte e da questo punto di vista noi dobbiamo sempre di più spingere perché 24 miliardi di euro sono tanti ma siamo sicuri insomma che con un'attenta anche valutazione di aiuto politico questo può diventare non un punto di arrivo ma un punto di partenza. Ecco questo il tuo punto di vista è un punto di vista da l'idea veramente di quanto sia importante questo capitolo per l'Italia. Nella tua vita di che cosa ti occupi nello specifico? Io oltre a bere bene e a mangiare bene sono il presidente di questa società che si occupa di distribuzione di prodotti alimentari al food catering e quindi al food service e da circa un anno e il 20 di aprile abbiamo avuto la prima manifestazione abbiamo lanciato un nuovo brand che era a chiudere delle eccellenze del nostro bel paese. Tutti prodotti estremamente particolari scelti con molta cura, con molta attenzione e che riescono ad essere un punto di partenza e cerchiamo di dare un valore aggiunto anche a quello che è il menù del nostro ristoratore. Quindi ci riagganciamo a quello che è il turismo enogastronomico. Assolutamente. Nella workshop di oggi naturalmente ci saranno degli interventi importanti che ci daranno l'idea di tutto quello che l'Italia sta facendo per potenziare ulteriormente questo grande segmento. Mi permetto di chiudere ovviamente facendo l'occhiolino ad Expo dal momento che siamo in corso d'opera e quindi diciamo dal tuo punto di vista proprio del tuo segmento operativo che cosa ti aspetti da questa vetrina universale? La vetrina è sicuramente un punto di partenza. Dobbiamo anche non sottovalutare quello che sarà l'anno 2015-2016 col Giubileo, quindi con l'anno straordinario che il nostro Papa ha voluto e ha scelto di fare in modo straordinario. Quindi deve essere anche questo un punto di partenza. L'Expo più il nuovo Giubileo sono secondo me condizioni irripetibili. Quindi non dobbiamo e non possiamo permetterci di perdere questo treno in maniera più assoluta. Grazie Roberto Capecchi, molto bene. Grazie a tutti.